l'oreo come potete vedere, l'oreo, lo apriamo, ecco qua, vogliamo prendere un po' di valsoia, un po', ecco il mio assistente Nicolo si è appena risvegliato da un piccolo pisolino mentre io lavoravo, ecco, riprendi la, così, ecco, mettiamo un po' di questa splendida crema d'inferma vegana, vegana, e mettiamo qua, però, per chiudere in bellezza, io consiglierei di prendere del buon latte di soia, eccolo qua, caro mio, mio Nicolo, latte di soia, perché a quest'ora ci sta, prendendo un piccolo bicchierino, piccolicolo che va sul dettaglio come un vero artista, potete vedere il bicchiere uguale al bicchiere di valsoia, ci sarà un perché, ora mettiamo un po' di questo cremoso e gustoso latte di soia, per noi vegani, per la categoria dei vegani, che sono vegani, essere o non essere vegani, questo è il dilemma, mio caro Nicolo, che ore saranno? ma alveggerà, forse, ecco, andiamo a gustare, ecco, facciamo una prova, analisi olfattiva, sentiamo, la sentite, la sentite, vediamo un po' così, resta sui bordi, il latte di soia, se è fruttato, o è amabile, abbastanza amabile, amabilissimo, proviamo ragazzi, proviamo, la sentite, la sentite, non per far sentire, si sente, raggiunto quella punta di cacao, e sicuramente ci abbiamo un sottobosco chimico, e adesso invece andiamo a analizzare la densità, questo latte di soia, per il suo sedimento di cioccolato, e vorrei augurarvi una buona giornata, morbido direi, decisamente morbido, con questa vi salutiamo, dalla nostra rubrica, lui è Nicolo, reduci dal suo episodio, che gli ha soltanto portato ad avere una coscia addormentata, e non riusciva a muovere, che dolore, è tutto, YAM SHAKUKA